Salve ragazzi, rieccoci per commentare la Juventus, la Juve l'ho guardata dove sta, la partita è finita da parecchio da parecchio, praticamente da quasi due ore, più di due ore diciamo che la Juve stasera ha dominato la partita, ha fatto una grande partita chi dice che la Juve non gioca bene, ho la netta sensazione che non ci capisce niente di calcio l'ho sempre detto, chi dice che Conte oggi ha fatto una partitona sinceramente parlando, io ho sentito molte persone, ho sentito che Conte ha fatto parecchio catenaccio si è difeso anche a 5 a un certo punto ed è ripartito in contropiede beh, questo non mi sembra il calcio spettacolo che tutti vogliamo vedere ha vinto 3 a 1 contro i Manchester City, in casa dei Manchester City, complimenti a Conte ma complimenti alla Juventus che sta ancora andando verso il sesto scudetto consecutivo che sarebbe il record della Serie A mai avvenuto, mai successo e secondo me la Juventus quest'anno farà molta strada in Champions secondo me riusciremo ad andare in finale se incontreremo squadre non abbordabili ma neanche fortissime, se incontriamo per esempio una squadra come il Real Madrid in questo momento io penso che la Juve ce la possa tranquillamente fare se incontriamo il Barcellona secondo me la Juve non ce la fa oppure deve fare uno sforzo sovrumano per farcela se incontriamo il Bayern Monaco secondo me la Juve può comunque farcela contro il Bayern comunque parliamo della partita adesso Juve-Atalanta è stata una partita subita dove la Juve parirà molto forte e Alexandro ha fatto veramente un bel gol ha fatto veramente un bel gol, un sinistro a giro che è sul pallo del portiere che secondo me qualche colpa ce l'ha però non era facile perché era coperta e la palla ha preso un giro strano comunque un bel gol di Alexandro, 1 a 0 per la Juve e niente, l'Atalanta comunque non ha giocato una bruttissima partita ci ha provato, ha fatto quello che poteva fare e alla fine niente, è stata la supremazia della Juve che è andata sul 2 a 0 con un bel cross di Pjanic dove Lugani impatta molto bene di testa la palla e fa il 2 a 0 diciamo anche ragazzi che secondo me la Juve è stata troppo criticata molto criticata sia la Juve che Allegri una squadra criticata dopo una sconfitta contro il Genoa dove la partita prima siamo andati a vincere a vincere a Ramon Sanchez di Sevilla contro il Sevilla 3 a 1 in casa loro a me sembra un po' difficile criticare sembra un po' difficile criticare e quindi niente ragazzi abbiamo fatto il gol del 3 a 0 e poi loro hanno fatto il gol del 3 a 1 tutto qui e la partita è stata stradominata e la Juventus stasera ha fatto quello che doveva fare ci vediamo domani sera ragazzi ciao